No, guarda tantissimo! No, venire! Eh? Cos'è? Signorini, prego! Non deve fare così! Eh, va bene! Io non lo potrei vedere! Giappia! Giuseppe! No, è un filmato, eh? Chi è filmato o vuoi? Chi è filmato? Andiamo se non gli unico! Andiamo se tu mangiare, va! Manate, va! Dunque! No, è un filmato! Lei preferisce un filmato? Un filmato! Un filmato! Un filmato!